Giovedì 9 luglio, bentrovati con una nuova edizione del Tg Estate. In apertura Agropoli, questa mattina presso il nosocomio agropolese, incontro con i vertici dell'ASL di Salerno, il governatore della campagna Vincenzo De Luca e gli amministratori del territorio per illustrare la riorganizzazione dell'ospedale civile agropolese. Ma vediamo nel dettaglio le interviste al governatore della campagna e al direttore generale dell'ASL Salerno, Mario Ierbolino. Abbiamo dato la parola e l'abbiamo mantenuta. Oggi questo è un bellissimo ospedale che dà serenità a tutte le famiglie di Agropoli, ma che rappresenta anche un elemento di certezza per i flussi turistici, per gli operatori commerciali e dunque davvero credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi cerchiamo di avere fiducia, finché ci sto io la parola data sarà mantenuta fino alla fine. Questa mattina, giovedì 9 luglio, presso l'ospedale civile di Agropoli si è tenuto un incontro per illustrare la riorganizzazione delle attività nel presidio ospedaliero. Alla conferenza stampa il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca ha sottolineato che il ritardo per la riapertura che era previsto entro fine giugno è stato dovuto a causa dell'ASL di Salerno perché bisognava completare i contratti di assunzione dei cardiologi, degli anestesisti e anche di due farmacisti che sono stati assunti per fare le preparazioni dei farmaci. Come potete vedere ancora oggi abbiamo percorsi separati, quindi non abbiamo seguito il modello lombardo. Chi arriva qui oggi ha la possibilità di non trovare promiscuità o contatti con altri reparti. Abbiamo tre posti di terapia intensiva, anche post-operatoria, pronto soccorso 24 ore su 24, due chirurgie. Abbiamo visto due sale chirurgiche davvero molto belle, credo che sia una struttura davvero di eccellenza che abbiamo realizzato nel territorio. Presidente, lei ha parlato di pronto soccorso attivo, ma i codici rossi arriveranno ad Agropoli? I codici rossi no, perché significa farli morire. Il codice rosso significa un ragazzo che ha avuto un incidente motociclistico, che ha un politrauma cerebrale ortopedico, è evidente che deve andare nella struttura in cui si salva la vita. Ma come voi sapete, il 90% degli accessi ai pronto soccorsi non sono codici rossi. Quindi nel 90% dei casi noi avremo la possibilità di dare assistenza a chi arriverà al pronto soccorso. Nei casi più gravi si va nel DEA di secondo livello, o si va addirittura al Cardarelli, a Napoli, o si va in altre strutture attrezzate, perché noi dobbiamo salvare la vita dei cittadini. Quindi quali saranno i codici che arriveranno al pronto soccorso di Agropoli? I codici che sono compatibili con le strutture che abbiamo ad Agropoli. A rimarcare quanto affermato dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, riguardo ai codici rossi e chi potrà ricevere assistenza al pronto soccorso agropolese, anche il Direttore Generale dell'Asra Salerno, Mario Ierbolino, che inoltre però ha aggiunto che la struttura ospedaliera in futuro sarà potenziata. Rispetto ai codici rossi che possono arrivare, è chiaro che il politrauma qua non può arrivare, perché non c'è un'ortopedia, non c'è una neurochirurgia, non ci sono attività di supporto che possono essere tali da dare sicurezza. Si mette in sicurezza il paziente, anche se arriva con mezzi propri, si mette in sicurezza il paziente e si trasferisce in quello che è l'ancora che diceva prima il Presidente, che diventa l'idea di secondo livello che è ballo, nella peggiore delle ipotesi. Questa è la situazione, poi fondamentalmente si può fare tutto, perché le condizioni di sicurezza sono dettate. Per quanto mi riguarda, faccio il medico prima di fare il Direttore Generale, sono dettate dagli anestesisti, dalla Guardia Anestesiologica e dal servizio di cardiologia, che è una novità in questo ospedale. Quindi il servizio di cardiologia sugli H24 diventa essenziale rispetto a questo percorso. Allora, Direttore, per chi invece parla delle assunzioni a 6 mesi, quindi mette in dubbio eventualmente la possibilità che poi il personale medico possa eventualmente... che cosa risponde? Rispondo che noi abbiamo per gli infermieri una gradatoria di mobilità, per la quale è chiaro che nel periodo Covid le aziende che dovevano lasciare dall'autorizzazione al trasferimento non l'hanno data, giustamente. Adesso i mesi che ci servono per il tempo determinato saranno procomici per avere poi dalla gradatoria di mobilità il personale a tempo indeterminato. Come ha detto il Presidente che abbiamo sforato di una settimana rispetto al 30 giugno, questo ci ha servito per recuperare delle professionalità, abbiamo chiuso l'avviso pubblico per i cardiologi e quindi i cardiologi, 10 cardiologi solo per questo territorio, perché non dimenticate che non avevamo cardiologi all'ospedale di Vallo e quindi i 10 cardiologi saranno tutti tra Vallo e ad Acropoli, 7 a Vallo e 3 ad Acropoli. Significa che abbiamo di fatto rafforzato... Gli anestesisti sono stati contrattualizzati, i medici di pronto soccorso ci sono, abbiamo investito anche sul 118, da dove ci dovessero essere delle carenze rispetto al pronto soccorso, penso che abbiamo di fatto... I radiologi ci sono H24, i laboratori ci sono H24, perché di fatto abbiamo rafforzato e concretizzato i ragionamenti. Quindi possiamo anche pensare che l'ospedale di Acropoli sarà potenziato in futuro, oltre a quello che già c'è all'interno adesso? Sì, sicuramente sì, sarà potenziato, ho detto anche nei passaggi che ho fatto che immagino di portare interventi di chirurgia vascolare, urologia e di oculistica. Di diverso pensiero invece sono i sindacati riguardo alla notizia della riapertura del presidio ospedaliero di Acropoli e dunque del suo potenziamento che è stato definito la grande truffa elettorale. Oggi giovedì 9 luglio alle ore 10 presso l'ospedale di Acropoli si è tenuto un incontro per illustrare la riorganizzazione delle attività nel presidio ospedaliero. All'ospedale di Acropoli vengono riconosciute due sale operatorie e due sale risveglio per i piccoli interventi chirurgici. Collegato alle sale operatorie sarà il reparto dei sargeri o chirurgia di un giorno che rappresenta la modalità clinico-organizzativa per effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostiche o terapeutiche invasive e regive di ricovero limitato alle sole ore del giorno in anestesia generale, loco regionale o locale. Ci sarà un aumento dei posti letto per affrontare il periodo estivo, la presenza di un cardiologo H12 con reperibilità notturna ed una terapia intensiva post-operatoria pari a sei posti letto. Nell'ospedale, già presente una UO di medicina, l'utenza agropolese dei dintorni di Agropoli potrà essere assistita solo per emergenze assimilabili a codici bianchi e codici verdi, ovvero tutti i pazienti che con codice di accesso bianco-verde che lasciano l'ospedale senza tornare al pronto soccorso dopo l'erogazione di una prestazione specialistica. Non è riconosciuto quindi all'ospedale di Agropoli il requisito d'idea di primo livello né di presidio di base il minimo previsto. In caso di codice rosso non è indicato recarsi presso l'ospedale di Agropoli, dunque si tratta di un primo soccorso potenziato e non di un ospedale vero e proprio, conclude nella nota il sindacalista Rolando Scotillo. Ed ora la comunicazione invece del sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano riguardo al cittadino rientrato dall'America e risultato positivo al Covid-19 in un momento molto difficile, dichiara Iuliano anche sul piano emotivo, ritengo doveroso e giusto comunicare ufficialmente che sono risultati negativi gli esiti dei tamponi eseguiti questa e ieri mattina a tutti i familiari del nostro concittadino come anche quello praticato all'amico Giovanni, unica persona che sebbene a distanza di totale sicurezza è stata incrociata sulla via del ritorno a casa e che responsabilmente a scanso di equivoci si è sottoposto volontariamente sia al tampone che al test sierologico. Sono esami quelli praticati che sono stati eseguiti a scopo ovviamente precauzionale, sottolinea il primo cittadino e per sgombrare il campo da qualsiasi possibile ipotesi di dubbio viste le tante voci molto spesso fuori controllo che sono circolate in queste ultime ore. Tutto bene dunque, conclude il sindaco Iuliano, nessun rischio per la cittadinanza che comunque invito a continuare a rispettare le misure di prevenzione, distanziamento sociale e uso della mascherina che onestamente negli ultimi tempi pare non siano più osservate con il rigore e l'attenzione necessaria. Ed ora una notizia di cronaca. Nel pomeriggio dello scorso 8 luglio la stazione Carabinieri di Perdi Fumo in seguito a mirata attività investigativa ha deferito in stato di libertà un uomo incensurato, studente, 22enne, i militari nell'ambito di specifici servizi tesi al contrasto del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti eseguivano perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'interessato rinvenendo sei piante di marihuana che lo stesso coltivava nelle pertinenze dello stabile. Nonché 2,5 grammi della medesima sostanza occultata attentamente all'interno della casa. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e sarà analizzata a Salerno. E ci fermiamo qualche istante per dare spazio alle offerte commerciali. A tra poco. Letisane di Zara Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Letisane di Zara Info 333 90 26 266 Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro polifunzionale Elysium Piscina semiolimpionica Palestra Centro fitness con attrezzi di ultima generazione Pizzeria con ingredienti genuini e selezionati Sala bar Centro polifunzionale Elysium Via lento Agropoli Salerno Info at elysium4u.it Risarcimento Italia Dal 1995 Al fianco di chi ha subito un danno Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto Risarcimento Italia Via Mattine 5 Centro Le Torri Agropoli Salerno Villa Franca Adomignano Scalo Per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali Villa Franca Via Cerreta 27 Omignano Salerno Il gruppo Riflessi con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria vi invita a visitare la nuova sede in Via Mattine ad Agropoli abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie profumeria fornitissima delle più grandi firme Gruppo Riflessi Abbigliamento e profumeria Via Mattine Agropoli Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti Non è una favola per bambini è MD MD Passione Tradizione e competenza Buona spesa Italia Ben ritrovati in seconda parte del Tg Estate di Cilento Channel Il presidente della campagna Vincenzo De Luca ha firmato nella giornata di ieri l'ordinanza numero 61 che contiene ulteriori misure per garantire la gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 Dunque i principali punti sono obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree terminal del trasporto pubblico comprese banchine e binari nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto e durante tutto il tragitto Il secondo punto invece prevede l'obbligo per le società di tutti i mezzi di trasporto di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossano la mascherina e di adottare ogni misura idonea ad evitare assembramenti a bordo fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo La stessa ordinanza rinvia alla data del 9 luglio 2020 ulteriori decisioni in ordine al carico di passeggeri consentiti a bordo dei mezzi di trasporto su gomma e ferro confermando quindi le attuali limitazioni in attesa delle competenti determinazioni degli organi statali Il punto numero 3 invece dell'ordinanza prevede che si demanda ai sindaci la adozione di idonee misure per assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi e specchi d'acqua non oggetto di concessione demaniale marittima per la durata del periodo di emergenza al fine di assicurare il rispetto del necessario distanziamento e i controlli degli eventuali sbarchi Per il quarto punto invece dell'ordinanza si richiamano le autorità e gli enti competenti alla vigilanza sulla osservanza delle norme statali che obbligano all'isolamento domiciliare quanti rientrano da stati terzi e si dispone l'effettuazione di controlli tamponi o test sierologici sui soggetti italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale E proprio per quanto riguarda l'ultima ordinanza regionale la città di Salerno ha nuove disposizioni da parte del sindaco Vincenzo Napoli proprio sulle spiagge libere Ascoltiamo il servizio della nostra corrispondente Approvata in giunta al comune di Salerno una delibera per gestire il controllo e la vigilanza delle spiagge libere una manifestazione di interesse che nel giro di pochi giorni porterà non vigili e carabinieri ma personale di associazioni di vigilanza privata a verificare che i bagnanti sugli arenili della città siano rispettosi delle regole anti-covid Un provvedimento che giunge a poche ore dall'ultima ordinanza della regione Campania che rafforza l'obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree terminal del trasporto pubblico nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto e durante tutto il tragitto La stessa ordinanza demanda ai sindaci l'adozione di doni e misure per assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi e specchi d'acqua non oggetto di concessione demaniale marittima per la durata del periodo di emergenza per assicurare il rispetto del necessario distanziamento ai controlli degli eventuali sbarchi Proprio oggi abbiamo approvato in giunta una delibera per quanto riguarda il controllo delle spiagge con una manifestazione di interesse che cureremo nelle prossime ore per fare in modo che ci sia una vigilanza efficace sulle spiagge Va da sé, l'ho detto dal primo momento che non ci sarà mai barba di carabiniere o di vigile o di poliziotto che riusciranno a moderare comportamenti erronei per quanto riguarda i grandi numeri Bisogna che ciascuno si faccia carico della propria salute e soprattutto quella degli altri Noi saremo presenti, verificheremo, faremo tutto quello che è nelle nostre umane possibilità ma se non scatta questo meccanismo intimo da parte delle persone, delle giovani generazioni probabilmente non si riuscirà a cavare un ragno dal buco Io mi auguro che scatti una consapevolezza individuale sicuramente scatti contemporaneamente la riprovazione sociale per quelli che non si attengono a questi precetti che sono semplici Allora bisogna che il trasgressore si senta un paria si senta una persona biasimata e guardata con disprezzo per fare in modo che abbia la capacità di redimersi e fare in modo di non essere una minaccia e una mina vagante per gli altri Chi potrebbe assolvere a questa funzione di vigilanza delle spiagge? Ricordiamo anche che molte spiagge libere in parte sono state anche assegnate a gestori privati che noleggiano anche lettini ed ombrelloni No, 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 noi non abbiamo assegnato nessuna spiaggia libera a chi che sia noi abbiamo detto che le spiagge devono essere libere e gratuite In molti arenili però ci sono delle persone che fittano gli ombrelloni quindi in maniera illecita tutto questo? No, no, assolutamente Fittare l'ombrellone non vuol dire assegnare una spiaggia è come comprare un cono gelato uno va lì, se lo vuol affittare l'ombrellone lo affitta se non lo vuol affittare si mette la sua asciugamanina e si sta al sole Ritorniamo su Agropoli consegnate le prime sette bandiere blu agli stabilimenti balneari del territorio agropolese ascoltiamo l'intervista del sindaco e del consigliere comunale di Filippo Il turismo a bandiera blu per Agropoli è un momento importante è il momento in cui l'amministrazione incontra gli stabilimenti balneari e insieme si fa il punto della situazione e si programma per il futuro come sapete la bandiera blu è un riconoscimento che non certifica soltanto la bellezza del posto non certifica soltanto la pulizia del mare ma mette insieme questo aspetto con l'aspetto ambientale con l'aspetto organizzativo e dei servizi che abbiamo sulle spiagge quindi viene fuori un gioco di squadra premiato dal ventunesimo riconoscimento che viene da Roma è un riconoscimento comunque che ci consente di far conoscere anche la nostra città dappertutto in modo tale da segnalare i nostri servizi e il nostro mare Il brand bandiera blu è una soddisfazione personale ma della città onestamente sono orgoglioso che ha giunto questo famoso traguardo questo famoso brand che ci garantisce servizi sulla spiaggia qualità delle acque e accessibilità anche il rapporto con i servizi turistici significa che è elevato sono fiero e orgoglioso e spero che sia solo il punto di partenza per le nostre spiagge, per la nostra bella Agropoli di qualificare sempre di più il nostro ritorale E andiamo di nuovo in Regione Campania 330 milioni di euro a sostegno delle scuole nelle graduatorie del Ministero fondi anche per le scuole agropolesi pubblicati infatti il 7 luglio scorso i risultati relativi al bando che ha messo a disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si tratta di distanziamenti per l'edilizia cosiddetta leggera e dunque l'avviso rientra nell'ambito del programma operativo nazionale PON per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 gli enti locali hanno già fatto domanda per oltre 290 milioni di euro altri ancora potranno accedere il Ministero dell'Istruzione infatti ha pubblicato un nuovo avviso per quelli che non sono riusciti ad accreditarsi in tempo e le loro candidature potranno essere inoltrate su sito internet www.istruzione.it alle ore 15 del 10 luglio 2020 tra i beneficiari di questi importanti fondi ministeriali anche diverse scuole del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dunque le scuole di competenza comunale della città di Agropoli che hanno ottenuto 110 mila euro ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità a tra poco a tra poco Fisiomedica Fisioterapia Rieducazione posturale globale Misura e prenotazione plantari ortopedici Ozonoterapia Tecar e laser terapia Elettroterapia antalgica Ecografie Visite specialistiche Fisiomedica Via Nitti 1 Agropoli Salerno Per ogni tua esigenza di spostamento Cilento Rent Noleggio auto Furgoni Scooter Biciclette Minibus da 7 e 9 posti Cilento Rent Ad Agropoli Capaccio Castellavate www.cilentorent.com Scegli BCC Aquara La tua banca vicina Affidabile Conveniente Cooperativa Da 42 anni Al servizio di imprese e famiglie del territorio BCC di Aquara Sede amministrativa Sulla strada statale 18 A Capaccio Pestum Lettisane di Zara Lettisane di Zara Prendersi cura di te È un'ambizione sana Vai sul sito Lettisanedizara.com E scegli tra i tanti prodotti disponibili Facebook Lettisane di Zara Info 333 90 26 266 Focus Point Fa la differenza Griff delle migliori marche Riparazione occhiali Pronta consegna Occhiali graduati Da vista e da sole Controllo gratuito della vista Centro applicazioni Lenti a contatto Focus Point Via Alcide de Gasperi 22 Agropoli Salerno Santo Mauro Azienda leader nel settore dell'edilizia Con 2000 metri quadrati di showroom I pavimenti e rivestimenti delle migliori marche Vasta scelta di arredo bagno Rubinetteria Igenici e accessori Santo Mauro Materiale per l'edilizia Capaccio Scalo Salerno Psicofisico Studio di nutrizione e benessere Dottor Andrea Ricci Biologo nutrizionista Si effettuano piani nutrizionali personalizzati Studio di nutrizione e benessere Dottor Andrea Ricci Pagina Facebook Studio nutrizione e benessere Convergenze Internet Fon TV Energie Ben ritrovati terza ed ultima parte del nostro Tg Estate Andiamo in regione Campania Fondi ai comuni Mancato incasso da IMU e TOSAP Dal governo in arrivo fondi di ristoro Vediamo il servizio della nostra corrispondente Aiuti economici in arrivo nei comuni attraverso il decreto rilancio del 19 maggio scorso a seguito esenzione di alcune imposte legate al settore turistico e alla tassa di occupazione del suolo pubblico vista l'esigenza di concedere maggiori spazi agli esercizi e attività commerciali di ristorazione e non solo viste le normative di distanziamento sociale imposte. L'esenzione di tali imposte ha colpito prevalentemente i comuni a cui il governo concede un fondo di ristoro per il mancato introito. Poco più di 100.000 euro in arrivo per i 18 comuni del Vallo di Diano e parte del Tanagro. I fondi per il ristoro destinati ai comuni vanno a sostituire le mancate entrate derivanti dall'esenzione del pagamento del limo prevista per gli operatori del settore turistico, ossia per le attività quali agriturismo, rifugi, affittacamere, B&B, residence e similari. In base alla presenza sul territorio di tali attività, dal governo sono quindi arrivati i fondi e i comuni per compensare il mancato incasso dell'imposta EIMU non percepite. 69.226 euro in totale in arrivo per i comuni del Vallo di Diano con la somma più alta che arriverà nelle casse del comune di Atena Lucana a cui sono destinati 12.454 euro. Al comune più popoloso del Vallo di Diano, ossia Sala Consilina, arriveranno 11.851 euro, mentre a Teggiano 10.727 euro. Padula e Polla riceveranno ciascuno somme superiori agli 8.000 euro, mentre per i comuni di Montesano, Sanza e San Pietro al Tanagro in arrivo a circa 3.000 euro o poco più. 2.695 euro in arrivo a Sassano e 1.664 euro a Sant'Arsenio. Per tutti gli altri comuni, ossia Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Monte San Giacomo, Pertosa, San Rufo, il mancato introito dell'IMU derivante dalle attività operanti nel settore turistico sarà compensato con cifre al di sotto dei 1.000 euro e comunque di poche centinaia di euro. 0 fondi in arrivo per Salvitelle che potrà contare però sui 2.231 euro in arrivo al ristoro del mancato introito derivante dall'esenzione della TOSAP, ossia la tassa di occupazione del suolo pubblico. In questo caso i comuni che percepiranno un ristoro maggiore sono i comuni di Polla che potrà contare sull'arrivo di 7.202 euro, seguito da Caggiano con 4.280 euro e Sala Consilina che percepirà 3.750 euro. 2.874 euro in arrivo per Montesano, 1.964 euro e quanto destinato per il comune di Teggiano. Ad Auletta sono stati stanziati 1.723 euro e a Sant'Arsenio 1.599 euro. Infine si mantiene sopra i 1.000 euro il comune di Padula che si vedrà consegnare dal governo la cifra di 1.488 euro. Per tutti gli altri comuni in arrivo poche centinaia di euro che avranno la finalità di sopperire al mancato incasso della TOSAP in questo periodo di emergenza post-covid. In arrivo fondi anche negli Alburni. A percepire il fondo di ristoro per il mancato incasso del Limu sulle attività turistiche più alto è Corleto Monforte a cui arriveranno 2.619 euro, mentre Sant'Angelo Le Fratte è il comune che percepirà di più come fondo di ristoro per il mancato incasso della TOSAP con l'arrivo delle casse comunali di 548 euro. Ed ora la lettera aperta a tutti i fedeli da parte dei parroci delle parrocchie di Agropoli. A causa dei ben noti avvenimenti degli ultimi mesi che tanto hanno segnato il vissuto delle nostre comunità, fanno sapere i parroci, i vescovi della nostra regione hanno stabilito che le processioni e feste patronali siano sospese fino a nuove disposizioni. Rientrano in tale provvedimento anche quelle manifestazioni che prevedano, pur senza il concorso di popolo, il portare le statue per le strade. Il divieto delle feste patronali è motivato anche dalla drammatica crisi sociale seguita all'emergenza sanitaria. Non sarebbe tollerabile assistere a feste utilizzando le offerte delle persone, mentre aumentano i poveri, messaggio appunto dei vescovi della campagna del 16 giugno 2020. Pertanto concludono i parroci, tutte le eventuali offerte che giungeranno alle parrocchie in queste circostanze saranno utilizzate per le necessità delle stesse e i bisogni delle famiglie più fragili. Ed ora andiamo nuovamente nel Vallo di Diano, precisamente a Teggiano, dove arriva l'ordinanza sindacale per la sterilizzazione dei piccioni. Ascoltiamo. Anche quest'anno il Comune di Teggiano ha avviato il programma di sterilizzazione farmacologica dei colombi urbani. L'iniziativa è stata disposta con apposita ordinanza firmata dal sindaco Michele Di Candia. Un'azione necessaria per ragioni di igiene e di sanità pubblica che sarà messa in atto in due specifici siti del centro storico, l'area antistante La Santissima Pietà e la parte iniziale di Via Lionetti-Mazzacane. Il programma, che sarà effettuato fino al 30 ottobre attraverso la somministrazione di mangime con l'aggiunta di Nicabarzina, è stato motivato dal rischio sanitario evidenziato dai servizi veterinari del CRIUV e dai servizi veterinari dell'ASL Salerno in quanto il colombo urbano. In condizioni di sovraffollamento, rappresenta per l'uomo e per gli animali domestici un reale pericolo, sia di tipo diretto perché potrebbe essere un veicolo di microorganismi patogeni, sia di tipo indiretto con fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione di batteri. Inoltre, le deiezioni dei colombi creano un grande danno all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione e restauro di edifici pubblici e privati. Il programma di sterilizzazione farmacologica ha dunque come obiettivo quello della diminuzione progressiva del numero di colombi. Per la sua attuazione è però necessario che i volatili siano alimentati quasi esclusivamente con il mangime medicato. Per questo motivo l'ordinanza sindacale vieta fino al prossimo 30 ottobre di dare altro cibo ai colombi nei siti individuati per il programma di sterilizzazione. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. Ed il gruppo Teatrando dell'Oratorio di Santo Ribio presenta Fantasia Napolitana, la prosa, la poesia, la musica e le canzoni di Napoli per tornare a sorridere. Il tutto si terrà mercoledì 15 luglio presso la sala socioculturale di Cannalong a partire dalle ore 21. I posti a sedere sono distanziati e ridotti secondo le vigenti regole relative all'emergenza Covid-19. Il tutto rientra nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. E con questa notizia andiamo a chiudere l'edizione di oggi. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento ad una prossima edizione del nostro Tg Estate. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.